carissimi amici bentornati siamo ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale l'origine di tutti i mali questa è la puntata numero 19 e stiamo compiendo l'ultimo tratto del percorso guidato dal nostro amico rodolfo barontini che ci porta a vedere alcuni spunti tratti dai documenti magisteriali della chiesa che hanno connessione e sono inerenti al tema che stiamo affrontando la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere i primi documenti che soprattutto evidenziano l'importanza e la grande correlazione sussistente tra la verginità e la non corruzione quindi soprattutto i testi che hanno approfondito il parto virginale di maria i testi magisteriali quindi il tema del dogma della verginità perpetua sono rilevanti per il nostro tema perché c'è un collegamento esplicitamente stabilito come abbiamo visto tra il mantenimento della incorruzione ed il mantenimento della verginità e quindi perdita della verginità uguale corruzione e quindi corruzione non può essere una cosa che sia voluta positivamente che quindi sia derivata in se stessa da dico questo in sintesi per quanto riguarda la prima formulazione allora anche oggi proseguiamo il tema riprendendo l'ultimo ciclo di documenti insomma che ancora affrontano questo questo tema che è la lettera ex litteris tuis di papa alessandro terzo qui densinger 748 cosa dice il testo di questa lettera maria concepì certamente senza vergogna partori senza dolore e di qui migrò senza corruzione in conformità alla parola dell'angelo anzi di dio per mezzo dell'angelo affinché fosse provato che lei è piena non colma sola a metà di grazia fine della citazione molto breve ma abbastanza esplicita in questa lettera il papa alessandro terzo attribuisce a maria santissima tre condizioni dovute alla sua preservazione dalla natura lapsa cioè dalla natura decaduta a causa del peccato di origine quali sono queste tre condizioni la natura di maria santissima è dunque perfettamente integra cioè immacolata come è provato dal saluto dell'angelo annunziante che le si rivolge chiamandola che carito meno piena di grazia ora permetto di aprire una piccola una piccola parentesi l'ho detto in stanza innumerevoli omedie catechesi in onore della della madonna però in questo contesto forse c'è qualcuno che magari non ha mai sentito queste cose e quindi è bene aggiungerlo il termine che carito mene che carito mene per essere precisi nella nella pronuncia è un perfetto medio del verbo carizzo che può dire appunto stare in grazia quindi avere avere la grazia la formulazione al tempo perfetto però in greco il perfetto è un tempo che si usa quando si vuole indicare un'azione che è cominciata nel passato ma che sta producendo continuando a produrre i suoi effetti nel presente quindi non è una cosa che è finita è una cosa che è ancora in atto per cui questo saluto che è un saluto molto molto esplicito è un saluto che fa riferimento soprattutto anche all'immacolata concezione perché la pienezza di grazia è annunziata come un fatto partito nel passato e che sta crescendo e mantenendo i suoi effetti nel presente ecco ma questa formulazione guarda che tu c'è totalmente tanta grazia e sta crescendo sempre di più come nessun'altra creatura al mondo ecco dovremmo fare una perifrasi simile a questa per rendere bene la semantica del verbo del verbo e della e della comunicazione che ha il verbo greco da notare che alessandro terzo scrive circa 700 anni prima del dogma dell'immacolata concezione quindi questo è alessandro terzo e quindi siamo intorno al dodicesimo secolo quindi siamo 700 anni prima appunto il dogma dell'immacolata concezione delle tre condizioni attribuite a maria santissima la seconda e la terza sono chiaramente riconducibili per contrasto alle pene inflitte ad eva e ad adamo per il peccato di origine maria partori senza dolore mentre ad eva dio dice con dolore partorirai figli genesi 3 16 maria di cui migrò senza corruzione mentre ad adamo dio dice polvere tu sei e in polvere ritornerai quindi l'esenzione dal dolore del parto e dalla corruzione dimostrano in modo chiaro di essere dovute alla preservazione di maria santissima dal peccato originale in conseguenza di ciò la mia opinione è che come le altre due anche la prima condizione sia dovuta a tale preservazione dalla colpa di origine secondo la mia ipotesi dunque il fatto che maria santissima abbia concepito senza vergogna cioè la prima senza vergogna senza dolore e migrazione senza corruzione queste tre cose che abbiamo visto no tre condizioni anche la prima secondo l'autore cioè senza vergogna cioè senza rapporto carnale è un segno che mostra come sarebbe dovuto avvenire la generazione in assenza del peccato cioè secondo il progetto originario di dio ritengo importante anche sottolineare l'espressione usata da alessandro terzo per affermare che maria santissima ha concepito senza rapporto carnale e gli dice senza vergogna quindi il rapporto carnale ha qualcosa connesso in certo modo con la vergogna per cui i coniugi hanno di che arrossire come avevano affermato ricorderemo qui bisogna chiaramente averle sentite tutte queste ciclo di categoria sicura legge del libro come avevano affermato sia sant'ambrogio nell'exortatio ad virginitatem e sia sant'agostino nel denupsis et concupiscensia ma d'altronde non ci vuole la scienza infusa no è ben notorio che a meno che non ci sia uno stato di depravazione autentico gli atti coniugali vengono compiuti nella massima riservatezza non davanti ai figli non in pubblico perché se fosse una cosa tranquilla e serena perché perché non la posso compiere pubblico quale 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 sarebbe il problema ma qualunque persona ripeto a meno che non si tratti di un depravato se vede tu e che per strada stanno compiendo gli atti per generare un figlio non credo che pensi di stare dinanzi di una cosa normale no e perché ci siamo mai chiesti questa cosa qui e perché se fosse una cosa così tranquilla normale distesa e serena c'è mai visto in qualche cosa che che viene da da nostro signore che ci si debba vergognare di farlo in pubblico e cosa che qualche cosa ci dovrebbe essere di di male io non mi vergogno di fare in pubblico una cosa in cui non c'è niente di male o no poniamoci queste queste domande io insisto sempre specialmente quando si tratta di questi argomenti che questi argomenti sono del tutto opinabili per cui come da tante volte detto opinabili però tensione è argomentabili affrontare queste tematiche anche ascoltare no è un'ottima palestra per imparare a farsi le buone domande a ben ragionare e poi anche a vedere a imparare a riconoscere le nostre risonanze interiori cioè che cosa avverto che sento noi dobbiamo è un compito fondamentale io credo che un sacerdote abbia veramente un mandato sotto questo punto di vista non di andare a fornire soluzioni ai problemi che non ci sono molte volte né tantomeno andare a imporre propri punti di vista o decisioni e scelte che sono la persona io devo aiutare le persone a imparare a riconoscere come dio gli parla dentro ho scritto un articolo tempo fa sul blog che si ascolta il tuo cuore che è un piccolo articolino insomma per cuore e coscienza sono un po due termini sotto certi punti di vista interscambiabili no noi delle volte sentiamo che una cosa funziona non funziona è vero è falsa è buono cattivo dentro cioè anche se non siamo ben formati ma abbiamo questo sentore è importantissimo imparare a discernere queste cose e discernere la voce della coscienza del cuore invece dalla voce della ragione dai ragionamenti i ragionamenti in questo campo intercorrono quando sapete quando succede questo qui la coscienza avverte una cosa ma siccome la volontà ne vuole un'altra questi sono processi inconsci questi qui è però funziona così la coscienza avverte una cosa ma siccome la volontà ne vuole un'altra allora che cosa da l'ordine alla ragione di fornirgli le giustificazioni per andare contro la coscienza facciamo un esempio grossolano riguardante questa materia no se una persona fosse particolarmente attratta dai piaceri sessuali quindi e lussuriosa è chiaro che se sente queste cose non sarà mai d'accordo non può ammettere cioè dentro la sua testa cioè tu immagina se io vengo ad avere la certezza morale quindi la coscienza mi dirà che il originale è stato questo e che 15 questa l'ambito della sessualità adesso è necessario quindi entro certi limiti è percorribile ma è molto condizionato è molto limitato ci vuole un sacramento e anche dentro questo sacramento non esiste il libertinaggio e anche non esistendo il libertinaggio va sottoposto a giusta moderazione a temperanza perché questo è figlioli miei cari cioè questo anche se uno non ci crede a questi discorsi qui per questo cioè la chiesa questo ha sempre insegnato cioè vi ripeto che fare questo discorso ne fornirà le motivazioni ma come mai tutta sta roba ecco perché se uno ovviamente crede a questa ricostruzione però ripeto una persona che è molto attratta dal mondo della sessualità e non intende come dire regolarla limitarla in qualche modo ridimensionarla che succede appena sente queste cose anche se la coscienza dice me sa tanto che è vero parte subito no non può essere vero è no ma perché allora ma perché allora ma perché allora ma perché allora del contrario guardate che facciamo sempre così e facciamo sempre così vi prego pensateci a queste cose non perché le dico io pensateci ogni volta che noi facciamo un peccato una cosa che non funziona c'è sempre questo processo sempre 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 imparare a smascherarlo è fondamentale perché dietro i ragionamenti della nostra testolina bacata specialmente quando vengono fatti in questo modo non c'è mai la volontà di dio mentre invece la volontà di dio c'è sempre dentro il nostro cuore e dentro la nostra coscienza ovviamente debitamente formate quindi non possiamo formare la nostra coscienza alla scuola dei talk show televisivi che fanno adesso o dei talk show gossip o dei reality show come gli chiamano adesso no chiaro che la coscienza deve essere formata però impariamo questa sottigliezza abbiamo poi una serie di testi proseguiamo riguardanti la preeminenza della verginità sul matrimonio altro punto fondamentale attenzione che non possiamo essere cattolici se neghiamo l'oggettiva eccellenza della verginità sul matrimonio senza criminalizzare né nulla togliere al matrimonio la chiesa ha sempre insegnato questa realtà non è che cioè non è che dico questa cosa perché essendo anche io vergine dico che bello sono meglio degli altri no qui si tratta di una eccellenza oggettiva di uno stato su un altro non significa ipso facto che tutti i vergini siano automaticamente più santi di tutti gli sposati questo è tutto da dimostrare tutto da dimostrare poi bisogna vedere in concreto come si vive la propria vocazione perché la santità si può raggiungere in qualunque stato di vita i conici la possono raggiungere tranquillamente perfettamente d'accordo una cattiva suora un cattivo frate un cattivo monaco una cattiva monaco un cattivo prete un cattivo vescovo capace che non raggiungono l'eterna salvezza perché non è che c'erano ipotecata perché sono preti suore ma monaci frati o vescovi non c'era nessuna ipotecata e invece c'è stata una coppia di i santi d'accordo che hanno vissuto la vita mettendo dio al primo posto mettendo facendo della chiedere la famiglia una piccola chiesa domestica amando il signore con tutto il cuore amandosi nel signore aiutandosi nella fede reciproca donandosi rispettandosi non mancandosi mai di rispetto essendo aperti alla vita avendo accolto tutti i figli che tu gli ha mandato avendone fatte dei cristiani esemplari avendo fatto un sacco di sacrifici per questo viva dio non si tratta di fare come dire di discriminazioni o cristiani di serie a o di serie b non è questo però fermare l'oggettiva eccellenza di questo stato come vedremo al termine di questo discorso da che cosa dipende dal fatto che questo è l'unico stato pensato da dio per gli uomini quell'altro non ci sarebbe dovuto essere siccome c'è stato il peccato adesso c'è e nostro signore come sempre ha messo in alto il piano b d'accordo indispensabile ecco quindi non si tratta quindi di una capiamolo bene questo discorso però è un discorso che come vedremo deve essere fatto perché la chiesa lo ha sempre fatto e chiunque oggi va cianciando in giro mettendo in dubbio questa cosa qui non parla a nome della sposa di cristo chiunque sia anche se ne fosse un rappresentante o un ministro d'accordo perché qui nessuno i ministri meno che mai meno che mai hanno alcun potere di dire il contrario di ciò che dice la sposa di cristo perché di essa appunto sono ministri così come del suo sposo che è il nostro signore gesù cristo ministro significa servo significa che tu amministri un patrimonio che non è tuo e non è disponibile allora il concilio lateranense quarto un grandissimo concilio un concilio che ha tantissime definizioni dottrinali e dogmatiche dice al capitolo privo dedicato alla fede cattolica densinger 802 se uno dopo aver ricevuto il battesimo è nuovamente caduto nel peccato può essere sempre rigenerato mediante una vera penitenza non solo le vergini e coloro che osservano la continenza ma anche le persone coniugate che cercano di piacere a dio corretta fede vita onesta meritano di giungere all'eterna beatitudine attenzione al contesto storico culturale dell'epoca perché all'epoca del concilio lateranense quarto siamo nel medioevo circolavano varie sette ereticari quello era il tempo dei catari degli albigesi di tutta quanta questa gente qui alcuni dei quali oltre che a condannare ipsofatto o il ricco uguale satana incarnato quindi dannato a ipsofatto qualcuno si era anche rimesso a dire che no 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 ma le persone cioè chi può andare in paradiso veramente sono i vergini chi è sposato ma no e la chiesa ha detto come ma no chi è sposato ma sì no ma no le persone coniugate che cercano di piacere a dio corretta fede vita onesta meritano di giungere all'eterna beatitudine quindi spogliamo anche il campo da ogni pregiudiziale di questo genere perché altrimenti il discorso diventa quindi non più consono non più opportuno in questo testo viene esposta la letta dottrina cattolica per combattere l'eresia degli albigesi e dei catari i quali disprezzavano il matrimonio e affermavano che solo coloro che si mantenevano puri trapporti carnati potevano salvarsi per questo il concilio lateranense quarto ribadisce la dottrina sempre affermata dalla chiesa della liceità del matrimonio e di conseguenza della possibilità della salvezza per coloro che si sposano tuttavia a mio parere ma questo non è un suo parere ho sottoscritto tranquillamente dal modo di esprimersi dei padri conciliari non solo le vergine ma anche le persone coniugate traspare come sfondo l'affermazione della superiorità dello stato di vita coniugale dello stato di vita virginale scusate su quello matrimoniale ora attenzione il matrimonio è una cosa lecita la verginità è una cosa consigliata noi dobbiamo imparare a distinguere queste cose anche per la formazione della nostra coscienza san paolo nel capitolo 8 si può andare tranquillamente a vedere della prima lettera ai corinzi e afferma esplicitamente colui che si sposa non fa peccato però dice anche chi si sposa fa bene chi non si sposa fa meglio questo dobbiamo sempre tenerlo presente nella come dire nell'orizzonte morale ci sono vari strati no una cosa può essere lecita lecita significa onesta onesta significa in terminologia morale che non è peccaminosa non è un peccato insomma per viva dio per carità vuol dire che stai dentro l'ambito della volontà di dio ma che sia lecita non significa che sia al tempo stesso buona in senso forte cioè buona nel senso che ti perfeziona cioè ti rende migliore né tantomeno che si tratti di una cosa consigliata quindi che è meglio e né tantomeno che si tratti della cosa migliore cioè che è l'ottimo questo dobbiamo impararlo a distinguere e vedete qui l'alternativa non è soltanto tra peccato e non peccato cioè per carità l'avere chiara la linea di demarcazione tra peccato e non peccato è una cosa fondamentale quindi è uno step fondamentale da percorrere nella vita cristiana però non si può ridurre tutto quanto a peccato e non peccato perché specialmente chi vuole percorrere un cammino di santificazione deve tendere alla perfezione se tendi alla perfezione non è più sufficiente stare nel peccato o nel non peccato cioè perché una cosa si può fare si potrebbe fare è gradita a Dio? punto interrogativo il fatto che non sia gradita a Dio non significa è ipso facto che sia peccato perché se fosse peccato non si dice non è gradito a Dio ma si dice offende Dio che non è gradita significa che si può fare ma che Dio non fa i salti di gioia per il fatto che quella cosa sia fatta ma si può fare dobbiamo tenerle chiare queste distinzioni e specialmente ripeto quando si instaura un cammino di santificazione non si può soltanto fermarsi tra è peccato o non è peccato è peccato o non è peccato è peccato o non è peccato attenzione perché la coscienza di cui abbiamo già parlato poi interviene anche nel suggerire delle cose che il Signore ci chiede non sotto pena di peccato ma perché vuole mandarci un pochino più su e tu quelle cose le devi ascoltare e se vieni a scoprire che quella cosa non è peccato non significa automaticamente che Dio non te la stia chiedendo a te spero di essere chiaro queste sono cose ripeto figlioli miei cari non badate a chi le dice ma badate a ciò che ha detto vi prego di ripensarci e di custodirle e di ritenerle concilio di Firenze bolla cantate domino qui siamo due secoli più avanti e siamo nel nel quindicesimo secolo si dice che alcuni non ammettano le quarte nozze ritenendole condannate ma poiché non si deve considerare peccato ciò che non lo è ricordando che secondo l'apostolo per la morte del marito la donna è libera e può sposare chi vuole purché ciò venga nel signore ne fa distinzione tra la morte del primo del secondo e del terzo marito dichiariamo che in assenza di impedimenti canonici si possono lecitamente contrarre non solo le seconde e terze nozze ma anche quarte e oltre riteniamo tuttavia più lodevole rimanere nella castità astenendosi da altre nozze perché come la castità è da preferirsi alla vedovanza così una casta vedovanza è da preferirsi alle nozze per lode e merito vedete perché anche qui San Paolo nelle sue lettere se una persona rimane vedova si può risposare se è rimasta l'unica condizione che potessi sposare attenzione qui è sottointeso che il marito o la moglie sono morti perché il matrimonio cessa con la morte di uno dei congi interessante questo fatto qui no? ci siamo mai chiesti perché? perché cessa con la morte di uno dei congi? ci siamo mai chiesti perché? e perché è lecito sposare un'altra persona? mi vorrebbe raccontare una cosa che mi è successo ma non la posso raccontare insomma no? come mai? perché l'amore tra un uomo e una donna non è eterno? cioè il matrimonio è uno e dovrebbe essere eterno non è un peccato chiedersi questi cioè questi non sono i perché che riguardano i misteri di Dio e i suoi decreti su di noi o perché permette certe cose queste sono delle domande purché siano fatte non in tono polemico no? ah perché tu non permetti questo qui? ah il matrimonio dovrebbe essere per tutta l'eternità quindi ti stai sbagliando qualcuno si mette a giudicare Dio e il suo operato invece c'è un modo costruttivo di porsi questa domanda dice ah c'è picchia premesso che se queste sono le strutture sacramentali Dio non si sbaglia premesso che è sicuramente meglio rimanere fedele all'unico matrimonio ma è lecito fare altro e perché? perché? a questo punto della nostra conversazione dovrebbe tornarci in mente quello che disse Gesù no? vi ricordate no? la polemica con i Sadducei la polemica con questo ci ha avuto sette questo ci ha avuto sette mariti e mo dall'altra parte di chi sarà con la risurrezione della carne che facciamo? cosa risponde Gesù? i figli di questo mondo prendono mogli e prendono mariti non è soltanto questa l'affermazione cioè attenzione l'essere marito e l'essere moglie in senso stretto eccettuati Giuseppe e Maria significa vivere gli atti coniugali allora qual è il discorso? seguitemi un attimo siccome non esiste altro ambiente lecito per porre in essere quegli atti che il matrimonio sacramento ma siccome queste cose sono riservate a questo mondo non riguardano l'altro mondo perché solo a questo mondo perché questo mondo manco sarebbero dovuto esserci d'accordo? e perché sono comunque funzionali adesso alla riproduzione della specie allora che succede? se muore uno e il superstite non ce la fa a vivere in continenza che fa? si spara? accumula peccati mortali su peccati mortali essendo il matrimonio cessato con la morte perché non ha ragione più di esistere perché quegli atti sono limitati a questo mondo quindi se vuoi intraprendere un altro nel Signore dice San Paolo quindi sacramento e nel Signore ni l'obstat se non lo fai è meglio vedete anche cioè perché gli eretici hanno sempre esagerato le eresie sono sempre quasi sempre una esagerazione e una unilateralizzazione come dire estremistica di un fondo di verità i cadere e gli albigesi sulla base del principio che la verginità è oggettivamente superiore alla vita coniugale avevano tratto un'inferenza eccessiva allora si salvano soltanto i vergini gli sposati sono tutti dannati no ma come ma allora che non è vero che la verginità è più cellente del matrimonio sì ma da questo non segue che gli sposati sono tutti dannati così come non segue dal fatto che le ricchezze sono pericolose come Gesù ha detto nel Vangelo l'ha detto chiaramente che tutti quanti i ricchi sono brutti e cattivi e vanno all'inferno non segue non segue ora commento a questa a questa a questo straccio del consiglio di Firenze Densinger 1352 per avere la citazione in questo documento magisteriale sul fatto che è lecito sposarsi più volte vedete ah ma no perché qualcuno dice ah ma dopo le quarte nozze non si può più troppo per carità vedete la sapienza della chiesa scusate un attimo cosa ha detto San Paolo cosa è scritto nella Bibbia che se muore il conige è possibile contrarre una delle nozze che per caso specificato e beh però alla quarta basta e dai date una regolata perché non c'è nessun limite non è vincolato dal numero del marito o della moglie che ti è morto certo poveraccio uno che muore quattro mariti la vita qua insomma non è che sono 500 anni adesso erano tempi dei patriarmi archi prediluviani che c'erano 600 700 800 qui abbiamo 70 80 90 che te morono quattro mariti o quattro mogli in 80 anni ti ha detto proprio male insomma no ecco però non ci sono limiti di tempo non c'è scritto c'è scritto che è meglio di no ma che non è peccato farlo e quindi puoi farlo quante volte te pare ora però il punto che interessa si trova chiaramente alla fine le ultime affermazioni che abbiamo letto che sono quelle rinnevanti per il nostro lavoro cioè quando si dice che come la castità è da preferirsi alla vedovanza così una casta di vedovanza è da preferirsi alle nozze attenzione che qui con castità si intende virginità quindi non bisogna cioè non è bisogna parafrasare non semplicemente come la castità da preferirsi alla vedovanza perché tutti devono essere casti tutti chi non è sposato chi è sposato chi è vedovo chi fidanzati tutti quanti ci sono delle forme di castità evidentemente vissute in maniera differente a seconda della condizione dello stato di vita che uno ha la castità coniugale è diversa dalla castità di un prete quindi qui con castità si intende virginità che è una peculiare ed eccellente forma di castità il concetto di castità coniugale nella chiesa è entrato a mio avviso molto opportunamente soltanto nell'ultimo secolo per esempio si guarda la spettacolare attualissima in civica di più undicesimo casti connubi si chiama quindi connubio casto connubio casto che non vuol dire il matrimonio con Giuseppe Maria no vuol dire il matrimonio vissuto nella castità coniugale io tante catechesi ho fatto scritto gli opuscoli su questo qui mi sono dedicato a questo qui molto perché oggi alla stragrande maggioranza dei coniugi cristiani non gli passa nemmeno per la pre-anticamera del cervello coniugi cristiani intendo magari cristiani coniugi diciamo battezzati anche se sposati in chiesa quindi affermando che la castità da preferirsi alla vedovanza il concilio di Firenze afferma che la verginità è uno stato di vita più eccellente del matrimonio dato che una donna può essere vedosa solo se sia sposata ed è proprio per questo motivo che vivere nella castità vedovile dopo essersi sposato una sola volta supererà lo sposarsi più volte ora questa dottrina è una costante della dottrina degli autori probati si chiamano così e dei padri della chiesa per cui chi mette in discussione una cosa di questo genere tra l'altro ribadita anche per i cultori del magistero diciamo moderno contemporaneo anche dal concilio Vaticano II e dal magistero post concilio Vaticano II chi mette in discussione una cosa di questo genere non è in comunione con la chiesa cattolica il concilio di Trento addirittura ci mette un'anatema sopra quindi se uno cesse qualche dubbio quando noi sentiamo dire una formulazione chi dice questo sia scomunicato anatema sit bisogna addrizzare le antenne e salvare il file perché vuol dire che non si può ottenere per quella dottrina che viene appunto stigmatizzata con l'anatema sit e il concilio di Trento nella sessione ventiquattresima al canone 10 dei canoni sul sacramento del matrimonio Densinger 1800 dice se qualcuno dirà che il matrimonio è da preferirsi alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore più felice rimanere nella verginità e nel celibato che unirsi in matrimonio sia anatema quindi detto questo il discorso è chiuso ok finito per un cattolico cosa migliore e più felice se mi posso permettere un riferimento biografico di questo ne sono testimone parafrasando io non smetterò mai di ringraziare Dio per lo splendore della vita che mi ha dato perché poi nel sacerdozio ecco perché io quando sento dire qualcuno che vuole fare sacerdoti sposati ma c'è non so se ridere o piangere un sacerdote spero che tutti i miei confratelli siano consapevoli o riscoprano questa cosa ha queste due gemme cioè tu sei un sacerdote quindi tu puoi hai un contatto cioè che dire privilegiato con il Signore è poco e al tempo stesso hai uno stato che è quello della verza cioè un sacerdote il celibato dovrebbe essere celibato virginale certo è possibile che uno prima di diventare sacerdoti abbia commesso dei peccati gravi contro il Sesto Comandamento quindi sarà celibe ma non è vergine ordinariamente non dovrebbe essere così ma questo è meglio di così cioè meglio di così non si può io di questo ne sono testimone quindi attenzione ne sono testimone avendo una ammirazione immensa e un amore immenso per tutte le belle sane e sante famiglie io ho rischiato seriamente quando ero giovane di farmene una insomma quindi per carità però non smetterò di ringraziare il Signore che mi ha destinato a questa sorte insomma che è meravigliosa il canone 10 fa parte di 12 canoni in cui scopo è di riaffermare la sacra mentalità del matrimonio combattendo il risiede dello scisma di Lutero sapete che Lutero tra le altre cose aveva negato la sacra mentalità del matrimonio cosa gravissima e attenzione che gravissima proprio in forza di quello di cui stiamo parlando perché senza un sacramento gli atti illeciti leciti non ci diventeranno mai nonostante che siano necessari per riprodurre la specie questo ce lo siamo già detti e a questo dobbiamo pensarci figlioli miei cari a questo noi dobbiamo pensarci cioè ci troviamo nella situazione paradossale post peccato originale cioè questo è così eh non ci si può fare niente cioè la chiesa insegna che i peccati contro il sesto comandamento sono sempre intrinsecamente e gravemente disordinati tutti l'atto da cui nasce una creatura fuori del matrimonio si chiama fornicazione ed è un peccato gravissimo capiamo e tutte le persone che non sono sposate eh cioè l'istituzione di un sacramento per questo capite no quanto era importante quindi negare la sacramentalità del matrimonio oltre a tutto il resto va anche a toccare questo punto quindi la formula usata era quella in vigore all'epoca un'epoca che non è che non è soltanto l'epoca questa è rimasta in vigore fino a prima del concilio Vaticano II è stato col concilio Vaticano II che è stata fatta la scelta per quel concilio che poi è stato denominato pastorale appunto per questo eh di non scomunicare nessuno di non anatematizzare nessuno ma già nel concilio Vaticano I ci sono gli anatematismi sia nella De Filius che nella pastor Eternus che sono le pastor Eternus che sono le due costituzioni dogmatiche che ha fatto in tempo a prolungare il concilio Vaticano I prima che dovesse concludersi per la breccia di portapie è evidente quindi la volontà dei padri conciliari di impartire un insegnamento vincolante il concilio di Trento emette un pronunciamento solenne affermando che la condizione di vita virginale è migliore e quindi superiore alla condizione matrimoniale in perfetta continuità con la perenne tradizione della chiesa questa è dunque una dottrina certa sto citando ma le ho già dette di mio queste cose che un cattolico non può mettere in dubbio è allora doveroso chiederci ma per quale motivo vedete questa quest'uomo che tante volte è ribadito ad essere intelligente è cosa migliore rimanere nella virginità che unirsi in matrimonio da una parte abbiamo l'autrina della chiesa sul matrimonio inteso come patto d'amore indissolubile fra un uomo e una donna che è di istruzione divina e qui c'è una bellissima citazione della Casti Connubi di Piondicesimo che molto volentieri leggo cito e cita anche il testo resti anzitutto stabilito questo concorso inviolabile fondamento che il matrimonio non fu istituito né restaurato da uomini ma da Dio non dagli uomini ma dallo stesso autore della natura Dio e da Gesù Cristo redentore della medesima natura fu presidiato da leggi e confermato e nobilitato le quali leggi perciò non possono andare soggette ad alcun giudizio umano e ad alcuna contraria convenzione nemmeno degli stessi conici dunque è certissimo che il matrimonio patto d'amore fra un uomo e una donna è stato voluto e istituito da Dio al primo uomo e alla prima donna sempre da Dio è stato dato il comando siate fecondi e moltiplicatevi prima che commettessero il peccato d'origine questo non dimentichiamolo è quindi volontà di Dio l'accrescimento del genere umano attraverso il matrimonio d'altra parte abbiamo come dottrina certa che cosa migliora a rimanere nella virginità che inizia i matrimoni a questo punto se noi interpretiamo l'accrescimento del genere umano in che senso Dio disse ai primi siate fecondi e moltiplicati questo è un punto fondamentale in che senso e in che senso per questo l'uomo lascerà suo padre e sionerà sua moglie e i due saranno una carne sola in che senso perché carne in ebraico attenzione carne in ebraico non è corpo basar in ebraico non è corpo la carne anche San Paolo nel Nuovo Testamento distingue tra carne in ebraico basar in greco è sarx e corpo che in greco è soma non è la stessa cosa perché la carne è l'uomo corpo ed anima in quanto caratterizzato intrinsecamente da una condizione creaturale fragile e dopo la colpa anche decaduta e quindi soggetta a mille passioni a mille miseri l'autore dice attenzione se siate vecondi e moltiplicatevi significa dovete farlo attraverso la procreazione mediante unione sessuale vi dobbiamo subito una contraddizione immediatamente cioè da una parte ci sarebbe il comando di Dio di moltiplicarci con il matrimonio mediante unione fisica e dall'altra la dottrina certa c'è il concilio di Trento che è meglio rimanere vergini che non si matrimoni perché uno potrebbe anche pensare no? ah tu tu ti consacri rimani vergine sei disobbediente sei disobbediente a Dio Dio ha detto crescete e moltiplicatevi sei disobbediente sei disobbediente questa era in effetti la teologia dell'antico testamento l'antico testamento compito di ogni più ebreo di ogni più ebrea era di unirsi in matrimonio e dare figli a Yahweh punto non c'era altro la verginità ancora non si era riaffacciata perché la verginità si è riaffacciata con l'ingresso della Madonna sul pianeta Terra non è escluso certamente che qualche donna o qualche uomo per ragioni dipendenti dal fatto che non aveva trovato nessun principe azzurro e principessa rosa e oppure per tante circostanze non aveva mai avuto un rapporto sessuale non fosse fisicamente vergine ma la verginità come stato di vita valorizzato pubblicamente affermato e proposto non c'era ancora per quale motivo sarebbe cosa migliore rimanere vergini se Dio avesse comandato di procreare nel matrimonio attraverso l'unione sessuale si chiede l'autore ma c'è anche un'altra domanda da farsi ma se questo era il comando originario di Dio ma per quale motivo Gesù Cristo doveva nascere in un altro modo va bene perché Gesù Cristo doveva essere il figlio di Dio e quindi doveva esserci un'origine divina va bene supponiamo che questo sia e perché dopo che è nato Gesù Cristo la Madonna non poteva vivere una vita se dovevano obbedire a Dio con San Giuseppe perché no se dovevano obbedire a Dio in questo senso nel ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe consigli per gli acquisti c'è già stata la catechesi inerente al matrimonio tra Giuseppe e Maria domanda ma era un matrimonio cioè era un matrimonio cioè di facciati dobbiamo dobbiamo fa finta perché dobbiamo fa crede alla gente che Gesù è nato in una famiglia normale e quindi facciamo finta tanto stiamo ognuno per conto nostro però facciamo finta stiamo dentro la stessa casa e buonanotte è stato questo il matrimonio tra Giuseppe e Maria secondo noi o era un vero matrimonio perché ci sia un vero matrimonio rovesciamo la domanda è indispensabile che ci sia il contatto sessuale punto interrogativo allora dobbiamo andare a scomunicare per esempio Santa Cunegonda e Sant'Enrico primo imperatore che hanno vissuto il matrimonio nella perfetta continenza li vogliamo scomunicare sono santi tutti e due Sant'Enrico e Santa Cunegonda quindi ci sarebbe evidentemente una contraddizione proseguire la lettura ora è chiaro che se c'è qualcuno che non può contraddirsi questo è proprio Dio Dio non può comandarci di fare una cosa e poi dirci di fare che cosa migliore fare il contrario di ciò che ci ha comandato perché quello è un comando di Dio siate fecondi e moltiplicatevi non è una pia esortazione ma se ci avete voglia se no non fa niente no no quello è un comando quello lì e quindi Dio mi dà un comando e poi mi dice ah però è meglio se fai il contrario ma dico ma stiamo scherzando stiamo stiamo scherzando guardate che queste sono tutte quante domande intelligenti da porsi ma a Dio non si chiedono i perché a Dio non si chiedono i perché dei misteri insondabili dei misteri della vita non si chiedono i perché sul futuro ma queste cose ripeto purché siano rettamente poste ci devono far pensare perché Dio guida gli uomini attraverso la testolina ben orientata la testolina quando sta d'accordo con il cuore e con la coscienza e quindi la Chiesa la chiama la retta ragione non la ragione che sragiona oh quindi questo è il punto è chiaro che se si ammette l'ipotesi che stiamo proponendo la propone l'autore ma io evidentemente sono d'accordo fra i due punti certi della dottrina comando divina di moltiplicarsi su priorità della virginità non c'è nessuna contraddizione ma anzi perfetta conseguenzialità logica perché rimanere nella virginità non è altro che proprio tornare allo stato di natura originario progettarlo da Dio per l'umanità dove il crescete e moltiplicatevi non avveniva attraverso coniugio sessuale tutto qui quindi secondo l'ipotesi fatta dall'autore ma non solo da lui perché insomma questo è evidente che sia sottostante a diversi patri pari della chiesa il comando divino di essere pecondi e moltiplicarsi ed interpretare come provocazione nel matrimonio attraverso una unione d'amore spirituale e non fisica io mi permetto mi permetto di fare una piccola glossa al nostro autore per un motivo molto semplice se qualcuno si scandalizza faccia pure ma questi sono dati di fatti sia nostro signore Gesù Cristo con alcune sue spose ma audite audite sia la madonna con alcuni suoi sposi e basta andare a leggere il salterio del beato Arano della rupe hanno avuto dei contatti d'amore fisici abbracci carezze baci ma non solo bacetti baci si vada a leggere il libro di cielo della serva di Dio Luisa Piccarreta e qualcuno che si scandalizza dice ma no ma non era un bacio bacio poi c'è una c'è una sezione del testo dove la dove la Piccarreta spiega bene che cos'era quel bacio e con una terminologia non equivoca allora questo perché non cioè l'amore spirituale non significa che sia un amore distanziato dato che oggi va tanto di moda il distanziamento non è detto affatto perché il problema il bacio di per sé se uno ci pensa bene adesso nell'attuale condizione in cui ci troviamo il bacio profondo si chiama così è moralmente problematico ma perché perché c'è la concupiscenza perché noi non siamo più come eravamo un tempo non puoi adesso dare un bacio bacio né puoi darlo a chiunque e neanche puoi darlo fuori del matrimonio senza pericolo perché 90 volte su 100 a quello segue ahimè l'eccitazione della libidine e quindi il pericolo di poter peccare in altro modo prima che ci fosse il peccato originale però la libidine non c'era per cui un bacio non è un atto sessuale ma è una manifestazione di amore appassionato di amore intimo non peccaminoso quindi a mio modestissimo avviso sì sicuramente la proiezione sarebbe venuta attraverso una modalità differente unione spirituale ma l'amore umano non sarebbe stato come dire l'amore come l'amore tra Dante e Beatrice sarebbe stato un amore bellissimo e anche come dire molto concreto strette di mano abbracci abbracci forte bacetti baci belli le coppie cristiane che vogliono come dire fare una buona preparazione al matrimonio fermo restando che con i baci profondi bisogna fare molta attenzione se vivono il fidanzamento secondo la volontà di Dio come dire si fanno come dire una piccola immagine anche se purtroppo adesso è problematica perché c'è da gestire l'impazzimento della concupiscenza di come dovrebbe essere l'amore attenzione però che quell'amore costruito in maniera perfettamente casta come deve essere tra due fidanzati a parte che è un richiamo lontano di quell'amore autentico ma deve essere poi anche la base dell'amore matrimoniale perché altrimenti il matrimonio non funzionerà l'unione carnale sarebbe sopraggiunta solo dopo la colpa di origine e a causa di essa è in contrasto con l'originario progetto di Dio che prevedeva invece la condizione virginale come stato di natura per l'uomo e la donna attenzione a quello che dice questo autore solo dopo la colpa di origine questo è anche quello che pensano i molti padri ma la domanda ulteriore è è stata proprio questa la colpa d'origine questa è la domanda che ci cominceremo a porre non la prossima volta ma sicuramente tra due puntate ecco perché il magistrato della chiesa ci insegna che è cosa migliore rimanere vergini che nell'attuale stato di natura lapsa unirsi i matrimoni allora ci fermiamo qui la sezione del magistero qui prevede ancora due stupendi documenti di Pio XI e di Pio XII la Casti Connubi di Pio XI e la Sacra Virginitas di Pio XII che evidentemente meritano una trattazione approfondita e dettagliata quindi ci fermiamo qui e ci aggiorniamo alla prossima puntata per vedere questi ultimi due documenti dei Papi e poi passare all'ultima parte del nostro viaggio dove apriremo l'orizzonte a ciò che Gesù ha rivelato lo ridico esplicitamente a Maria Valtorta e la valutazione di quelle rivelazioni nel contesto di tutto ciò che abbiamo visto e poi alla fine io dirò francamente sinceramente schiettamente quello che penso evidentemente in maniera propositiva e opinabile e poi il ciclo di catechese sarà concluso ecco intanto ci diamo appuntamento alla prossima la mia benedizione a tutti Dio vi benedica e la Madonna sempre e vi provo